A testimonianza della giornata contro l'eliminazione della violenza verso le donne che si celebra domani 25 novembre, la direttrice generale e la responsabile Ceguardin del PC Matera sono presenti in campo con la maglia celebrativa dell'iniziativa perché la società Bianca Azzurra è unita in questa battaglia. Tutti insieme! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.